A di più Eva Enger torna a parlare dello scontro avuto in diretta con Alessia Marcuzzi. La diretta dell'Isola dei Famosi aveva fatto parlare molto per quel faccia a faccia tra la naufraga e la conduttrice. Oggi, con una lettera aperta, la Enger si rivolge di nuovo alla Marcuzzi. Tornando ad attaccarla. La lettera poi continua. Ma, Alessia, mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente da sola. Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo. La Enger dice di aver preso carta e penna per spiegare tutto sull'Isola dei Famosi anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c'è una donna piena di rabbia. La polemica della Enger si rivolge però anche ad altri protagonisti dell'Isola. A Daniele Bossari, l'ex naufraga, scrive, Mi hai attaccato fin dall'inizio, hai detto che stavo raccontando menzogne, che il Cannagate era frutto della mia fantasia. Sei stato sbugiardato e non ti sei mai degnato di chiedermi scusa. Infine, la Enger si rivolge a Mara Veniet, su internet hai scritto che ho la faccia come il C.O., aggiunge, ma poi durante l'Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Però mi chiedo, perché non ti sei scusata in diretta, a telecamere accese? Chi ti ha bloccato?